Io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino George E' vero, parlare con gli amici è stata davvero un'ottima idea Adesso però... Andiamo a giocare? Sì, andiamo a giocare Facciamo finta che Maga Cornacchia voglia distruggere il parco con un robot E poi noi la sconfiggiamo Che bella idea, sembra un'avventura emozionante Arrivederci piccoli amici, tornate presto e siate felici!